Presentata la partnership ufficiale tra la Aran Cucine Panthers Roseto e la Susan Come in Italia, una delle associazioni più importanti a livello internazionale per la lotta ai tumori al seno. E' una cosa che abbiamo fortemente voluto con tutta la dirigenza dell'Aran Panthers di Roseto, vogliamo portare un messaggio diverso da quello solito, non solo della competizione ma anche della prevenzione. Continuiamo nel nostro percorso, sono felicissimo che il nostro rapporto continui in modo stretto e noi ce la metteremo tutta per mandare in giro per l'Italia con la nostra squadra, con i nostri atleti, un messaggio di prevenzione che sarà utile per tutti. Le Panthers Roseto saranno quindi testimoni alle ufficiali dell'associazione, portando il simbolo della Comeni in tutta Italia e saranno un veicolo di promozione su temi sensibili e importanti come la prevenzione, il sostegno delle donne che vivono l'esperienza del tumore al seno, il potenziamento della ricerca, le opportunità di cura, di formazione permanente e di educazione della salute, nonché l'aiuto nei confronti delle altre associazioni per realizzare al meglio idee virtuose. Oltre 50.000 donne si ammalano ogni anno di tumore del seno, una patologia oncologica che se intercettata nelle sue fasi iniziali può portare a percorsi di guarigione che toccano il 90%, con percorsi di cura meno invasivi che impattano in maniera minore sulla psiche e sul corpo delle donne colpite. Abbiamo un'arma preziosissima a disposizione, ossia la prevenzione, un'arma concreta che se utilizzata con intelligenza può realmente salvarci la vita. Le Panthers ormai non sono più una novità ma sono una realtà della città di Roseto, una realtà nell'ambito sportivo perché sono riuscite a lanciare uno sport così importante come il basket che riguarda la nostra città, che ha l'anima del basket, al femminile. E questo lo fa tramite un intervento nel sociale, un intervento nella formazione dei giovani e in questo caso è un intervento nella ricerca nella prevenzione dei tumori al seno che credo che sia una battaglia che il dottor Capone porta avanti da anni e che oggi Roseto degli Abruzzi è contenta di continuare a potracinare con tutto il proprio interesse e con tutta la propria passione.